Una buona serata al pubblico, ben ritrovati al nostro approfondimento che inevitabilmente non può che essere legato alla vicenda coronavirus, ma visto che l'abbiamo comunque già affrontata sia dal punto di vista della cronaca sia riferendo anche pareri importanti di medici, di esperti spiegando tutto quello che è stato messo in campo per fronteggiare il problema sanitario e portarlo anche nelle sue giuste dimensioni, questa sera vorremmo affrontare un altro aspetto del problema coronavirus e cioè il malato oggi più grave in Italia di coronavirus che è l'economia, sembra una battuta, non è una battuta, non vuol dire sminuire un problema sanitario, vuol dire cercare di ragionare a 360 gradi affrontando quello che sta succedendo da tutti i punti di vista, perché con l'economia dobbiamo farci conti tutti quanti, come con la salute del resto ci mancherebbe, ma il problema economico c'è e rischia di diventare sempre più grande, se ne stanno accorgendo ovviamente le organizzazioni di categoria, i sindacati e anche le pubbliche amministrazioni, si è tenuto anche un tavolo a Genova, si sono iniziate a prendere delle decisioni, Confcommercio Imperi attraverso il presidente provinciale Enrico Lupi è intervenuta con forza, non solo per dire con il loro slogan, hashtag Confcommercio c'è, ma anche per dare delle proposte, per dire fermiamoci un attimo, ragioniamo, cerchiamo di capire dove si vuole andare a finire, perché oltretutto la Liguria ha già tanti problemi, questo in più potrebbe essere veramente la battosta finale al nostro sistema economico. Allora iniziamo sentendo una parte di intervento di Enrico Lupi proprio sul lavoro che si sta facendo e che si farà anche prossima settimana a Genova. Enrico Lupi, presidente di Confcommercio, voi avete fatto un incontro a livello regionale perché qui il problema, più che la diffusione del virus, sta diventando un virus per l'economia in questo territorio Ligure già abbastanza martoriato, le categorie sono preoccupate, tornerete prossima settimana a incontrarvi, ci sono delle strategie? Noi abbiamo realizzato un martedì risposto all'appello della presidenza regione Liguria con gli assessori competenti per capire intanto la natura del provvedimento di emergenza, l'ordinanza regionale, ma soprattutto per rappresentare quello che è la situazione in divenire dell'economia della provincia di Impiede e soprattutto del comparto turistico, commerciale di conseguenza, ma poi produttivo. Abbiamo chiesto l'immediata convocazione del tavolo di crisi che l'assessore Benveduti ha convocato lunedì 2 marzo alle ore 15, abbiamo presentato istanza di cassa integrazione in deroga per le piccole e piccolissime imprese dei settori colpiti, assessore Berlino che lo sta veicolando col governo, notizia di stamattina, presenteremo un dossier molto analitico realizzato da tutte le nostre imprese del settore turismo con fotografia dell'immediato, cioè di oggi, ma soprattutto prospettive attese di quelle che sono le prenotazioni alberghiere nel medio e nel lungo periodo, perché abbiamo ricevuto disdette negli alberghi fino al mese di luglio, quindi senza nessuna razionalità, ma questo è il dato di mercato e quindi chiediamo naturalmente l'assoluta preminenza di sostegno all'economia e ai lavoratori che insistono in questo comparto o per quel che riguarda la regione Liguria. Io credo che si debba distinguere tra regioni che hanno preso ordinanze di emergenza come la nostra regione Liguria, che non aveva ancora nessun caso conclamato all'origine, oggi ci sono purtroppo alle regioni che invece hanno la normalità, quindi istanza al governo che quando si parla di provvidenze si debba distinguere dell'una e dell'altra fattispecie. Siamo preoccupatissimi, non vogliamo essere il lazzareto d'Europa come ho già detto in altre occasioni, cerchiamo di avere i nervi saldi, ma non solamente noi, ma soprattutto i decisori a livello istituzionale, regionale nazionale, perché contrariamente abbiamo già dei danni, ma avremo ancora maggior danni che poi non riusciremo a recuperare neppure nel tempo. Avete sentito l'allarme del Presidente di ConfCommercio, come vi dicevo sono tutte le categorie preoccupate e tra coloro che dicono che di coronavirus sta rischiando di morire dell'economia, c'è anche ConfIndustria. Noi abbiamo sentito il direttore di ConfIndustria Imperia, Paolo Della Pietra, approfondiamo anche l'aspetto degli industriali e di altri comparti economici. Della Pietra, senza far battute fuori luogo, ma l'impressione che stiamo avendo è che con il coronavirus il paziente più grave rischi di essere il nostro tessuto economico alla fine. Attualmente assolutamente sì, anche perché per fortuna il nostro territorio non è stato colpito attualmente da persone che hanno riscontrato il virus, ma abbiamo già problemi dal punto di vista delle aziende, soprattutto nel settore turistico alberghiero abbiamo dal punto di vista delle prenotazioni internazionali, le disdette, anche dei gruppi, insomma ci stiamo auto isolando, un auto isolamento economico che non ci voleva soprattutto in questo momento, sia dal punto di vista turistico che per la nostra provincia rappresenta una fetta di PIL molto importante, sia dal punto di vista industriale perché negli ultimi anni stavamo registrando un buon andamento, non abbiamo ancora evidenze negative per carità, però ci auguriamo che questa crisi possa durare il meno possibile. Quindi turismo già ne risente, prenotazioni soprattutto all'estero disdette, settori come l'olio, il vino che fanno anche dell'export per il momento no? Per il momento no, ovviamente non è tanto un problema di venita all'estero, si può presentare un problema di gestione anche dell'impianto della fabbrica, per pezzi di ricambio che possono arrivare da altri paesi o per propri mezzi di trasporto per portare le merci all'estero. Ci sono evidenti difficoltà di viaggi per quanto riguarda le persone fisiche, soprattutto per noi italiani abbiamo visto che viaggiare all'estero diventa sempre più complicato e speriamo che questa sorta non la debbano avere anche le merci. Proseguiamo tornando a sentire il presidente provinciale di ConfCommercio Enrico Lupi perché c'è anche la necessità di avere una regia, di conoscere che cosa si farà domani, di capire i provvedimenti come vengono presi perché qua si rischia anche che alla fine ognuno vada un po' per i fatti suoi, non segua linee comuni, quindi ci sia chi blocca, paralizza tutte le attività, qualcun altro che invece non lo fa. Insomma c'è la necessità un po' di capire e di cercare di tornare verso la normalità come chiede anche il presidente di ConfCommercio Imperio. Ecco ci vuole un po' una regia perché appunto regioni che hanno preso provvedimenti, altri che non ne hanno presi, la preoccupazione Lupi è anche che questi provvedimenti vengano reiterati, lei giustamente ha detto che è stata fatta un'ordinanza che non c'era nessun caso, adesso che ci sono la toglieranno questa ordinanza, quanto potrà andare avanti perché se si continua così i rischi diventano pesanti anche in vista della stagione estiva, ormai alle porte. Il problema è molto semplice, senza sottovalutare il fatto epidemiologico e sanitario assolutamente, ma credo che ci debba essere una considerazione a livello di governo centrale, soprattutto prima e poi naturalmente in sintonia conseguenziale con i governatori delle regioni in cui stiamo parlando. L'atteggiamento deve essere di assoluta tutela salute pubblica dei cittadini, ma contemporaneamente smontare questo clima di panico che ormai si è propagato nel Paese. Non possiamo vivere con tutti i canali televisivi che 24 ore al giorno parlano di coronavirus, le radio 24 ore al giorno coronavirus, tal show, giornalate. Io registro o leggo quotidianamente i quotidiani spagnoli piuttosto che quelli francesi, c'è sicuramente il problema, ma ci sono molte altre notizie. Cerchiamo di cambiare l'atteggiamento mentale, ripeto, conciliando la gravità del problema dal punto di vista sanitario, attrezzandoci, dando modelli di comportamento a tutti i cittadini sicuramente, ma nello stesso tempo ripristirando anche una normalità a livello di psicologia generale e collettiva. In caso contrario, veramente questo panico che a mio avviso si è scatenato farà dei danni economici assolutamente più abnormi di quello che poi è il danno sanitario purtroppo di quelli che saranno colpiti con situazioni magari personali già assolutamente compromesse e quindi risultato negativo. Questo è un pochettino ragionamento da fare, il caso contrario, torno a ripetere, piangeremo parecchio dopo. Ci stiamo facendo del male da soli, Lupio, secondo lei? No, io non dico questo, dico quello che ho detto e spero, come dire, una riflessione generale che compete i decisori, ripeto, nazionali prima e poi naturalmente di concerto con i governatori dei giorni interessati su cui riflettere. Poiché non vi è certezza scientifica, dal punto del mondo scientifico, di quando finisce il fenomeno, perché qui non siamo davanti a un terremoto, un alluvione, terremoto devastante, bene, quando è finito il problema delle scosse si ricomincia a ricostruire le case e lo stesso per dire altri fenomeni naturali. Qui questo concetto di virus ci hanno detto, ci dicono molto, ma quando finisce non si sa e non è che possiamo continuare per un anno neppure per sei mesi con una situazione di panico generale, perché allora coerentemente dovremo chiudere fabbriche, uffici, istituzioni, imprese e quant'altro, ritornare all'età delle caverne e chiudirsi tutti in casa. Questa è la situazione. Oppure razionalmente prendere i provvedimenti necessari sufficienti, precauzionali, educare tutti noi stessi ai comportamenti virtuosi, ma riprendere una normalità psicologica, sto dicendo, nella vita quotidiana. Ecco, con un'ultima considerazione, contando anche che nella vicina Francia, voglio dire meno cosiddetti tamponi, si sanno meno numeri, meno cose e la vita va avanti. Oltretutto parliamo di un Paese che può essere anche direttamente concorrente alle porte nostre. Ripeto, io non mi posso permettere di giudicare atteggiamenti né dei governanti né di altri. Dico, le considerazioni le ho già fatte. Una nota di colore, leggevo sul Paese di ieri, un articolo che diceva alla Spagna, guarda con molta attenzione, quel che succede in Italia nel comparto del turismo. È evidente che Morstu ha vita mia, no? Se noi siamo, come dire, estremamente in difficoltà, qualcun altro ne approfitta. Per avere la misura di che cosa significa danno all'economia da coronavirus, abbiamo verificato a livello nazionale attraverso l'agenzia nostra collegata che è Italpress ed è stato calcolato che praticamente l'economia italiana potrebbe pagare il coronavirus intorno ai 4 miliardi di euro sentite. L'emergenza coronavirus rischia di farci perdere 3,9 miliardi di euro di consumi, la stima è di confesercenti. La frenata avrà conseguenze pesanti sul tessuto imprenditoriale, potrebbe portare alla chiusura di 15.000 piccole imprese in tutti i settori. A rischio 60.000 posti di lavoro, la situazione è particolarmente grave nel turismo, il comparto è già in zona rossa con le attività ricettive travolte da un diluvio di disdette. La stagione primaverile che vale il 30% del fatturato annuo del comparto appare compromessa con la prospettiva di ulteriori danni non solo per alberghi e B&B ma anche per bar, ristoranti e attività commerciali. Di fronte a tutto questo è chiaro che il sistema economico, il sistema delle imprese avranno bisogno di aiuti, di sostegni. Lo ha già detto in parte il presidente provinciale di ConfCommercio Anico Lupi facendo anche riferimento agli interventi dell'assessore Gianni Berrino per attivare la cassa integrazione in deroga, ma ci saranno anche altre necessità per dar modo agli imprenditori di guardare al futuro e di risollevarsi da questa enesima batosta soprattutto in Liguria. Proprio adesso tra l'altro che insomma Ponte Morandi, il nuovo viadotto sul Polcevere è quasi finito. C'è una piattaforma da poco operativa commerciale su Bado Ligure che diventa uno degli scali portuali più importanti del Mediterraneo. Insomma c'erano dei presupposti proprio per guardare avanti, questo rischia veramente di farci tornare indietro, Lupi diceva all'epoca delle caverne. Speriamo non sia così, ci sono altre proposte dal sistema camerale, ne abbiamo parlato con il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria che comprende Imperia, Savona e la Spezia proprio per capire che cosa si può fare per dare un sostegno concreto alle imprese. Il dottor Stefano Senese è il segretario generale delle Camera di Commercio Riviere di Liguria, quindi Imperia, Savona, la Spezia. Ecco un territorio tra l'altro interessato in modo particolare da questa emergenza coronavirus. Un'emergenza che più che sanitaria rischia di diventare una vera e propria emergenza economica o no per le nostre imprese? Certamente anche perché per i nostri territori il settore del turismo in particolar modo come quello della Blue Economy, dell'agroalimentare è assolutamente determinante e quindi il coronavirus lavora certamente sulle difficoltà operative ma anche molto sull'immaginare, quindi il turista si muove molto anche in relazione all'immaginare. Quindi già oggi abbiamo avuto una serie di non prenotazioni o se volete di sdetta di prenotazione e quindi dobbiamo riuscire a operare in modo da ricostruire quello che è la fiducia nel nostro territorio facendo capire che la nostra è una regione efficiente, sicura, prudente e anche sana da tutti i punti di vista. Naturalmente nella logica di cui io sono convinto che il fenomeno coronavirus è un fenomeno che si riuscirà a chiudere. Ecco questo senz'altro lo spieghiamo tutti e si parla già di cercare un ritorno alla normalità ma comunque diciamo che l'allarme che si è generato attraverso i social, i mass media a livello internazionale sta portando questi problemi. Disdette ma anche magari prodotti italiani vediamo bloccati ai confini in modo assurdo. Un esempio eclatante è quello del Granapadano stagionato fra l'altro ancora prima coronavirus fermato in Grecia. L'economia nel mondo vive anche di speculazioni e quindi naturalmente tutti i paesi concorrenti quando possono utilizzano anche questo strumento, diciamocelo chiaramente. Noi dobbiamo essere bravi, ripeto, a sapere modificare quella che è la situazione. È chiaro che il primo elemento per ritornare ad essere quelli che eravamo è quello di bloccare questa situazione del virus nel nostro paese e di fare in modo che appunto dobbiamo dare la sicurezza che siamo un paese tranquillo e tra virgolette sano. Siamo anche un paese, se vogliamo essere honesti per una volta, che ha fatto tutti i controlli che altri paesi magari non avevano fatto. E non lo dico per motivi economici, ma se il coronavirus non diventerà pandemia, che allora il discorso cambierebbe, ma insomma di virus che in circolazione ce ne sono tanti quando prendiamo le influenze, le pulmonite o quant'altro. È chiaro che questo fenomeno non è un fenomeno italiano ma è un fenomeno mondiale e quindi dobbiamo riuscire in questo caso, perdonatemi la parola, prender tempo. Per far questo credo che ci sono alcune iniziative che noi possiamo prendere e che devono consentire alla nostra economia di poter passare la nottata, come si dice in gergo. Ecco, iniziative che quali possono essere un sostegno, un aiuto alle imprese, viene invocato da più parti, ma ci possono essere tante forme, come dire, di sostegno alle imprese. Sì, certamente. Io credo che, stante il fatto che la finanza pubblica è, come voi ben sapete, certamente non Florida, dobbiamo trovare forme che ci consentono di moltiplicare le capacità di aiuto alle imprese. Io credo meno, lo dico con sincerità, al fondo perduto, in questo caso specifico naturalmente. Credo di più alla possibilità che le imprese possano attivare i finanziamenti magari a tasso agevolato e soprattutto garantiti. E da questo punto di vista io credo che se rafforzassimo, ad esempio, il mondo dei consorsi fidi, noi potremmo, con contributi, dati, utilizzare un effetto moltiplicatore. Effetto moltiplicatore, un'idea che può essere importante, significa appunto generare più giro economico sul territorio. Nell'immediato bisogna cercare però di recuperare comunque una normalità, in qualche modo. Cioè, renderci conto che, insomma, l'Italia forse più di altri, appunto l'esempio dei tamponi e calzante, ha voluto affrontare l'emergenza con certi numeri, con certi approfondimenti, altri paesi nicchiano forse un pochino di più e poi alla fine fanno più bella figura di noi, stanno sul mercato meglio di noi, parliamoci chiaro. Sì, è stato così, oggi però noi, io credo, dobbiamo già lavorare a un nuovo processo di promozione dei nostri territori. Ripeto, dando sempre questa sicurezza del fatto che ci muoviamo con grande attenzione a quella che è la salute, eccetera, eccetera, ma dobbiamo fare anche una grossa campagna poi, appunto, di promozione, perché altrimenti l'immaginario collettivo poi rischia di farci perdere non i dieci giorni, il mese, i due mesi, ma di prolungarsi nel tempo, soprattutto nell'estate, che naturalmente per alcuni settori è molto importante. Teniamo conto anche una cosa, che noi siamo una realtà costruita sulla piccola impresa e non costruita sulla grandissima impresa e abbiamo filieri che sono spesso filieri cosiddette corti, quindi non completa dal punto di vista produttivo e quindi le problematiche possono poi andare a inserirsi anche su questi livelli di produzione. Quindi noi dobbiamo dare questa serie di dimostrazioni. Non voglio essere ottimista troppo, però io credo che dobbiamo essere molto razionali in questo momento, dobbiamo costruire tutte le formule, le strutture per poter superare questo momento e per superarlo, ribadisco, dobbiamo trovare forme di finanziamento molto significative, ma anche costruire proprio un percorso appunto di comunicazionale che è molto importante. E anche in alcuni settori, che siano la portualità, che siano il sistema delle infrastrutture rispetto all'impresa, appunto garantire che non ci sono, ci sono dei percorsi che sono al di fuori del condizionamento sanitario. Ecco, in questo anche il governo e anche l'Europa devono fare la loro parte, perché noi viviamo di turismo, è vero, ma abbiamo anche un sistema portuale importante, uno scambio di merci, una piattaforma di Vado Ligure inaugurata ieri, voglio dire che dovrebbe essere il nostro fiore all'occhiello anche negli scambi, ma se poi i container dalla Cina e con la Cina non si muovono, si rischia un effetto a catena terrificante. Assolutamente sì, assolutamente sì, è questo uno dei motivi perché noi dobbiamo essere realisti, ma non più realisti del re, perché altrimenti davvero rischiamo di creare un danno devastante su situazioni che magari non hanno anche questo tipo di problematica, perché io non condivido onestamente per esempio il blocco che è stato fatto per quello che riguarda gli italiani che vanno in alcuni paesi dell'estero, capisco che un italiano che vado all'estero possa magari, cioè si fa una verifica quando scende dall'aereo, ma bloccarlo compiutamente è a poca logica, allora mettiamo dei sistemi per cui chi viene da certe aree deve essere verificato, ma non lo possiamo bloccare in assoluto, verifichiamo e che non abbiamo problema, ho capito, ci serviranno più infermieri, più tamponi, scegliete tutto quello che può servire, ma cominciamo a costruire un sistema che non blocchi qualunque tipo di procedura, di percorso, ma che ci consenta appunto di avere tutte le garanzie possibili. La Cina è certamente uno dei paesi da attenzionare grandemente, la Cina è un paese di 2 miliardi di persone enorme, quindi anche su quello è un riferimento commerciale mondiale, perché riconosciamo anche questo. Esatto, non c'è dubbio, ma anche da questo punto di vista appunto mi permetto di dire qualunque match arrivi dalla Cina o quant'altro, ecco magari se esiste il sistema verifico che sia effettivamente a posto da tutti i punti di vista e poi vediamo anche da quale parte della Cina può arrivare. Ecco, io credo che dobbiamo lavorare con attenzione, con sicurezza, ma senza bloccare totalmente quello che è il nostro modo di vivere. E per questa sera ci fermiamo qui, una trasmissione su coronavirus diversa, da un altro angolo, un'altra sfaccettatura. Nell'arco di questa settimana appunto, come ho detto all'inizio, abbiamo voluto cercare di dare la visione a 360 gradi di questo problema sanitario, sì, di psicosi, di paure spesso esagerate anche, ma problema assolutamente anche fortemente economico. Questo per cercare appunto di dare un'informazione completa senza enfatizzare nessun passaggio, senza esagerare dove non c'è da esagerare, ma dicendo le cose come stanno, come è il nostro costume. Un arrivederci a presto e naturalmente con la speranza di ritrovarci, a poter parlare con maggiore serenità, guardare avanti con maggiore serenità senza dover vivere appunto nella preoccupazione che, come ripeto, tante volte è persino esagerata. Senza sottovalutare, ma senza esagerare. Un arrivederci. Ciao! Ciao!